E adesso parliamo di una persona particolare. Durante tutte queste puntate di Una Sera da Leoni, una signorina si è occupata di preparare tutti questi bellissimi specchietti che avete visto, di preparare tutti i modelli che venivano magari impreparati a Una Sera da Leoni. E stasera sfila tutta per noi e per voi che ci seguite da casa. Si è presa i tre modelli che erano qui questa sera, cioè Alberto Benvenuti, Daniele Paci e Marco Mancini. Vediamo cosa ha studiato. Un grosso, grosso applauso per Lucia Capecchi! Un grosso, grosso applauso per Lucia Capecchi! Is too good to be true? Standing here beside you, Want so much to give you this love in my heart That I'm feeling for you. Let them see we're crazy, I don't care about that Put your hand in my hand, baby, don't ever look back Let the world around us just fall apart Baby, we can make it if we're heart to heart And we can build this dream together Standing strong forever Nothing's gonna stop us now And if this world runs out of lovers We'll still have each other Nothing's gonna stop us Nothing's gonna stop us now I'm so glad I found you I'm not gonna lose you Whatever it takes, I will stay in here with you Take it to the good times Lucia Capecchio, Una Sera da Leoni, bravissima e bellissima, grazie amici, grazie.